Adesso il nuovo capitolo dell'operazione Stop Fake che era stata condotta dalle fiamme gialle di Pescara. Sono stati sequestrati quasi 50.000 articoli di bigiotteria venduti illegalmente nei pressi della stazione centrale. Merce che si aggiunge agli oltre 93.000 articoli non conformi già requisiti di recente, sempre dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, il valore commerciale di circa 120.000 euro. Si tratta di gioielli o falsi o non in regola con la normativa sull'etichettatura dei prodotti, vale a dire orecchini, bracciali e anelli che sarebbero stati a diretto contatto della pelle pur risultando privi di informazioni sulla loro composizione e che poi con esami approfonditi hanno manifestato la presenza di materiale anche tossico tipo il nickel che può dare origine a reazioni allergiche o anche di coloranti organici non conformi alla legge europea in quanto con il sudore si trasferiscono facilmente sulla pelle provocando eczemi o arrossamenti. La sanzione applicata in questi casi può arrivare anche a 26.000 euro. Il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, ha detto che il controllo economico del territorio quando è orientato alla contraffazione, all'anticontraffazione ovviamente garantisce e tutela la salute collettiva. Naturalmente proseguono le indagini per ricostruire la filiera di questo illecito approvvigionamento e smistamento sul territorio di questi articoli. Poi la Guardia di Finanza dà anche delle regole per stare attenti e una buona regola è quella di badare al prezzo perché se è troppo basso è spesso indice di scarsa qualità e l'altra buona regola è quella di rivolgersi a venditori autorizzati che offrono evidenti garanzie sulla sicurezza della merce.